Ciao ragazzi, siamo tristi oggi perché è il nostro ultimo giorno, Jacopo è già partito e nulla, siamo qua a fare un giro per Berlino, c'è il sole finalmente, giro dei centri commerciali Sì, abbiamo fatto un giro di una cosa tranquilla, adesso torneremo in città, ci facciamo un giro ad Alexanderplatz e poi stasera ultima cena all'hard rock probabilmente e nulla, torneremo a casa domani mattina, abbiamo l'aereo presto 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 quindi siamo un po' tristi, salutiamo il nostro Jacopo Ciao porco è partito già stamattina e non l'abbiamo salutato non l'abbiamo salutato perché noi dormivamo come ieri e non ci si sa neanche ancora e ringraziamo anche tutto lo staff di Spazioetec che da casa ci ha aiutato con gli articoli a sistemare un po' le cose grazie ragazzi la nostra avventura diciamo finisce qua, questo probabilmente è il nostro ultimo video selfie perché stasera non saremo nelle condizioni di farne uno mi sa e niente ciao ragazzi, grazie per averci seguito a presto